Alla segnale valido emerge Gregory RL, l'errore di Golden Gillwer. In seconda posizione Lucarina precede Neld Gradoville, poi Olaria Mede GSM. Si va dopo 200 metri, con al comando Gregory RL, Lucarina in seconda posizione, poi Neld Gradoville in terza precede Olaria Mede GSM. Quindi Old Girl Parra, allargo Lioner. Si va dopo circa mezzo giro al comando Gregory RL nei confronti di Lucarina e Neld Gradoville, poi Olaria Mede GSM. Non ci sono variazioni nemmeno all'imbocco della curva di sinistra, con il leader che mantiene una lunghezza e mezza di margine nei confronti di Lucarina. Si va dopo 800 metri, non ci sono variazioni, muove allargo Old Girl Parra, che gradualmente tenta la risalita, mentre Gregory RL da chiaro battistrada a rifinire il primo chilometro. Gregory al comando nei confronti di Old Girl Parra e Lucarina, poi Neld Gradoville, allargo Lioner Meride Chiari. Si distende il leader per rispondere alla presenza esterna di Old Girl Parra e il secondo chilometro inizia con una frazione in 15. Gregory in vantaggio su Lucarina, Old Girl Parra, allargo, poi attivo Neld Gradoville. Così quando si va a 600 alla conclusione, 29.7, 400 intermedia, ancora in accelerazione. Gregory in chiara evidenza su Old Girl Parra. Sposta anche Neld Gradoville quando si va all'imbocco della curva conclusiva. Il paletto in 14.43.7, questi 600 intermedi da parte di Gregory RL che ha preso tre lunghezze di margine. Neld Gradoville prova ad avvicinarsi anche ai Meride Chiari di Galoppo. Old Girl Parra quando i cavalli entrano in retta d'arrivo. Gregory RL in netta evidenza nei confronti di Neld Gradoville, poi Meride Chiari e Lucarina. Gregory RL che viene a vincere davanti a Neld Gradoville. E al terzo posto Meride Chiari.